Sindaco, oggi presentazione del progetto dell'acquedotto sul Roia, lei però ha presentato alcune perplessità. No, non ho portato nessuna perplessità, io solo ho ribadito quello che avevamo detto in tante riunioni. Premetto che sono contentissimo che si riesca a raddoppiare questo tubo e ad arrivare a Diano Marina. Continuo a ribadire che l'importante è che arriviamo allo stacco di Diano Marina, poi che si inizi da un punto o dall'altro l'importante è che arriviamo a quello. Noi dal Dianese abbiamo sempre puntato su quello, adesso non vogliamo fare la parte di quelli che poniamo delle pastoie o che vogliamo fermare l'opera. Noi l'opera ci sta bene che venga fatta, l'importante è che arriviamo al Dianese. Noi conosciamo le problematiche del nostro territorio, le problematiche del tubo, del Roia che si rompeva nel nostro territorio, io solo ho ribadito quello. Sono contentissimo che si rifaccia questo tratto di conduttura, e l'importante è che arriviamo nel Dianese in tempi abbastanza brevi, perché quando si sono iniziati questi discorsi si erano iniziati proprio perché c'era la problematica del Dianese, che tutte le estate il Dianese restava senza acqua. Io torno a dire, parlo per Diano Castello, che forse a volte l'ha patita anche meno avendo delle centrali di pompaggio e delle vasche di accumulo, però mi sono sentito in dovere di precisare queste cose. Poi se abbiamo trovato il finanziatore e chi porta l'acqua nel Dianese sono ben felice.